Preoccupa il grido d'allarme lanciato dalla conferenza dei sindaci della costiera amalfitana. In tre giorni sono raddoppiati i positivi, ha spiegato il delegato alla Sanità Andrea Reale, invitando tutti a rispettare in modo rigoroso le regole. Ad oggi il numero dei positivi è di 97 persone. Sono in corso circa 300 tamponi ai contatti diretti dei nuovi contagiati. Reale ha precisato anche che buona parte dei nuovi positivi sono sintomatici e che la ripresa dei contagi è avvenuta in ambito privato e familiare per il mancato rispetto delle regole. Proprio in costiera amalfitana nelle scorse ore si è registrata la settima vittima a perdere la vita. È stata un'anziana di 85 anni residente a Scala e ricoverata a Ruggi. La task force predisposta durante le festività natalizie dunque non è bastata per frenare il contagio. In tutta la provincia sono state controllate 5.306 persone, 2.764 veicoli e 2.289 esercizi pubblici. 123 persone sono state sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti-covid e 6 per l'inosservanza della quarantena. Intanto negli ospedali della provincia aumenta il numero degli operatori sanitari che si sta sottoponendo al vaccino anti-covid. Vaccinatevi perché vaccinarsi ci protegge e ci porterà all'uscita da questa situazione che ci ha chiuso. Quindi vaccinare e tenere il distanziamento e le mascherine e tutte le indicazioni che ci vengono date ci porterà fuori al più presso. Se invece continuiamo a non tenere a vada questo virus torneremo in situazioni pericolose. Grazie.